a un mio nuovo video, oggi parleremo del mio nuovo sistema Home Tiro composto da un videoregistratore sonico un televisore da EV nuovo che non avevo ancora avuto a vedere ma secondo me non valeva la pena fare il video perchè è proprio una robetta semplice e il nostro impianto a calca abbiamo cambiato la posizione del cast una, due e tre, una lì col cavo allungato che passa lì, sembra tipo il nastro adesivo dei poveri ma questa è un'altra storia avviciniamoci un po' allora un hi-fi stereo quattro testine, auto tracking poi l'auto head cleaner che è il solito pirulino che passa e pulisce il nastro il nostro solito pirulino poi qua avanti ecco qua, impostazione semplice ok impostazione semplice stoppa 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 tutto annulla quindi in tagli ecco il telecomando e qua si può controllare guardate execute impostazione semplice ah e questo sono andato sulla ricerca automatica questo è un 44 canali mentre sta la ricerca veloce noi possiamo anche fare questo no non si può perché no non possiamo e vediamo aspettare che non so che che sta facendo la stessa cosa ma se io schiaccio play guardate un po' riaccendo riaccendo andiamo in play ecco ci siamo ci siamo no 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 piacere sto cazzo di telefono si vabbè se lo vedete sfaccato non preoccupatevi stare video così sono semplici immagini e molto molto buona adesso voglio paccioccare un po' voglio giocherellare un po' con il videoregistratore iniziamo a fermare il nastro quando fermiamo il nastro viene tutto una roba grigia non riesco a capire ingrandisco un po' solo così potete vedere bene cosa faccio qua sul monitor inizio ad andare sul menu poi vediamo un po' cosa posso fare cioè view diciamo execute finali caneguido scriviamo bisogna scrivere un numero 5 oppure giocarellare un po' così farò un po' di lavori diciamo tac 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 fare un po' di lavori diminuisco l'immagine ragazzi questa è l'immagine e facciamo l'eject con il telecomando eject certe volte va certe volte non va questo è l'unico difetto che ha ecco adesso è uscita la cassetta quella che abbiamo messo è Mel Gibson un'arma letale come vedete non ho mangiato il nastro niente niente se io lo vado a reinserire in automatico questo fa parte per me lo dovrebbe ecco qua se noi facciamo lo stop possiamo mandare indietro il coso possiamo mandarlo indietro possiamo mandarlo indietro Tese la cassetta è un po' così Però Ecco è partito Veramente è veramente veloce Perfettamente Vabbè raga Questo è tutto Da me E ci vediamo al prossimo video